Buon pomeriggio, ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video sui libri che ho letto in questo periodo. Non ho letto tantissimissimo perché nel periodo natalizio sono stata abbastanza occupata con i regali da fare, da finire. Ho lavorato molto a maglia e a uncinetto, alcuni potrò farveli vedere, altri avevo intenzione di fare un video prima di Natale, prima di consegnare i regali, ma non sono riuscita a pazienza, avremo tempo di vedere altri lavori insieme. E quindi così ho ritagliato del tempo, soprattutto nelle vacanze dove ero a casa dal lavoro, per poter leggere. Leggo principalmente nel periodo natalizio tanti libri sul Natale, romanzi, i soliti, quelli che parlano di neve, quelli che parlano di bei cottage, quelli che parlano di amori, che poi si ritrovano, insomma, romanzi che mi fanno star bene, che mi fanno rilassare. Ma in questo periodo natalizio ho letto soltanto un libro sul Natale, diciamo, e gli altri ce li ho ancora in scorta. Allora, io leggo per tutto l'anno libri sul Natale, perché è un periodo che mi piace molto, mi piace soprattutto il fatto del freddo, l'inverno, la neve, questi paesaggi un po' bucolici che così mi piacerebbe poter vivere, dove mi piacerebbe poter vivere, ma sono rimasta indietro su queste letture e le vedrete probabilmente nei prossimi video per tutto l'anno, perché per me non c'è una lettura di stagione, leggo libri di tutti i tipi in tutti i momenti dell'anno. Poi, devo dirvi la verità, mi sono un po' riavvicinata alla cucina, alla panificazione soprattutto, e come il mio solito, quando è un po' che non panifico in maniera, tra virgolette, lo dico professionale, ma non è professionale, però quando uso il lievito madre, mi piace prima di ricominciare andare così a ripassare le basi, quindi il rinfresco, le farine da usare, mi piace proprio rileggere come se io andassi a ripetizione. Ho tantissimi libri sulla panificazione con il lievito naturale, perché mi appassiona da sempre, e quindi così ho avuto il piacere di potermi riavvicinare anche attraverso le pagine di un libro a questa bellissima arte che mi rilassa e mi regala davvero una pace, mi ha insegnato la pazienza, io non sono una persona paziente, non lo sono mai stata, ma negli anni ho dovuto imparare, ho abbassato il crapone, come dice la mia mamma, te sbassa giove il crapone, e ho imparato che per alcune cose bisogna avere pazienza perché vengano bene, e questo soprattutto l'ho imparato con la panificazione con il lievito naturale. E quindi così ho fatto un po' di letture varie, mi sono stati regalati dei libri bellissimi, mi sono regalata perché me lo meritavo, perché ero veramente stressatissima, ero stanca e mi meritavo dei bei libri, quindi mi sono regalata e mi sono comprata tutti gli ultimi libri di Xaba che mi mancavano e me li sto leggendo piano piano, ma poi ve li farò vedere. Ma torniamo al video di oggi, vi voglio presentare, vi voglio raccontare tre libri alla mia maniera, sapete che io non faccio una recensione molto in profondità perché non mi piace svelare tanto di un libro, mi piace che la gente che mi ascolta, gli amici che mi ascoltano, siano incuriositi da quello che racconto, che poi anche il libro come il profumo è molto soggettivo e che magari riescono a scoprire un buon romanzo, un buon libro dalle parole che io ho condiviso. Allora, l'unico libro sul Natale che ho letto è stato questo, 12 racconti di Natale, di Jeanette Winterson. Io non conoscevo questa scrittrice, che è molto famosa, ed è stata una scoperta, un insieme di racconti davvero molto molto belli, molto melanconici, molto natalizi, di un Natale però tradizionale, di un Natale di altri tempi. Mi sono stampata la scheda della scrittrice perché, come vi dicevo, io non la conosco e leggendo chi è questa scrittrice ho capito perché c'è questa sorta di melanconia, di uno spirito natalizio vintage, non so come dire, sono proprio racconti quasi di altri tempi e mi sono piaciuti tantissimo. Si parla dello spirito del Natale, che va ad incontrare una persona, si parla di pupazzi di neve animati, che aiutano una piccola bambina, si parla di ricette perché dopo ogni racconto la scrittrice ci regala delle ricette che fanno parte della sua vita, della sua infanzia, della sua vita con la moglie e sono tutte davvero molto molto belle, alcune assomigliano molto anche alle ricette che fanno parte della mia tradizione natalizia. Allora, Jeannette Winterson è nata a Manchester e viene adottata da una coppia pentecostale e in questo romanzo si sente la difficoltà di questa bambina, che poi diventa donna, ad esprimersi soprattutto con la madre. La mamma è una persona molto rigida, sembra quasi anaffettiva, sempre triste, sempre pronta a pensare alla vita che è brutta, all'arrivo della morte, a prepararsi alla morte e questa bambina fa fatica, soprattutto quando capisce che è omosessuale, lesbica e quindi fa coming out. Fa coming out a 16 anni e se ne va di casa. Se ne va di casa rimane lontana da casa per molti anni e poi pian piano si riavvicina alla famiglia, si riavvicina anche alla mamma e al papà con molta difficoltà e secondo me questa tristezza nei suoi racconti la si ritrova. La si ritrova perché i racconti sono di fantasia, non parla mai in prima persona anche se secondo me alcune esperienze vengono dalla sua vita. Ma nelle ricette che poi riporta nei vari giorni che si avvicinano al Natale parla proprio di sua mamma e di suo papà, delle ricette che ha condiviso con loro che ha condiviso soprattutto con il papà poco prima di morire. è una scrittrice, come vi dicevo, famosa, anche se io non la conosco ma io non sono nessuno e ha avuto varie relazioni, si è poi sposata con, adesso ve lo dico perché non sapevo anche lì la moglie e chi fosse, si è sposata con Susie Orbach che ho scoperto essere la psicoterapeuta o l'analista di Lady Diana. Poi comunque dopo 5 anni, 6 anni di matrimonio si lasciano e lei questo amore, questo distaccamento lo vive in maniera molto molto dolorosa. Ma nonostante questa vita così travagliata, questo è secondo me una raccolta di racconti davvero molto molto bella, racconti anche di fantasia, racconti per adulti ma alcuni possono andare bene anche per bambini. è davvero una piccola chicca, vi leggo così molto velocemente quello che viene raccontato sulla quarta copertina, si dice così fantasmi irriverenti e spiriti del Natale, incontri d'amori e trabocchetti ghiaccioli e slitte e rane d'argento, case stregate e mamme di neve zuppa inglese allo sherry di papà Winterson e ravioli della Shakespeare and Company 12 racconti e 12 ricette natalizie di Jeanette Winterson che ho scoperto proprio da questo libro, molto amica di due cuoche ma non sono cuoche perché sono di più di cuoche Nigella Lawson, giusto? Nigella Lawson e anche un'altra scrittrice e cuoca e chef adesso non ricordo più dove l'ho letto, forse nella presentazione di cui io ho anche un libro, forse anche più di uno non mi ricordo, aspettate che vediamo se lo riesco a trovare in velocità in velocità ah, forse i ringraziamenti che sono alla fine, vediamo 287 tanto qui siamo in famiglia, è come se voi foste qui con me allora no, niente, non lo trovo e non voglio farvi perdere tempo comunque parla di due scrittici, due chef molto famose che sono sue amiche e alle quali lei ha chiesto dei consigli sulle ricette che proponeva quindi questo è davvero una bellissima raccolta di racconti che vi consiglio sia per Natale ma per me Natale è sempre tutto l'anno quindi se volete leggere qualcosa di carino che vi regali così uno spirito natalizio un po' melanconico che fa bene, non è una melanconia triste, brutta è quella che ti fa ricordare le cose belle che magari hai trascorso anche con delle persone che non ci sono più, che però tu hai sempre nel cuore e quindi è davvero un libro che vi consiglio eccolo qua secondo libro che non arriva dalla biblioteca ovviamente ho dovuto fare questo video perché dovevo anche riconsegnare i libri però ce n'è uno che non arriva dalla biblioteca comunale ma arriva dalla mia biblioteca avete visto nel giro che vi ho fatto fare veloce della mia camera hobby che ci sono tantissimi libri e tantissimi libri non sono stati letti sono stati acquistati da me ma pian piano li leggerò tutti allora parliamo sempre di food blogger o comunque di scrittrici legate a cibo e alle ricette Molly Wittenberg Molly Wittenberg io l'ho conosciuta perché qualche anno fa aveva un blog di cucina molto molto rinomato non ci capivo una cippa perché ovviamente era in inglese ma mi piacevano le sue fotografie mi piacevano le ricette poi con Google Translate io andavo a vedere ma mi piaceva seguirla perché così mi era simpatica questo libro La mia vita fatta in casa ci sono tantissime ricette su questo libro ed è un libro autobiografico autobiografico perché? perché lei racconta la sua vita possiamo dividerlo in due parti una vita, scusate, una parte dove racconta le ricette legate al suo papà lei è figlia unica di un secondo matrimonio del papà ha altri due o tre fratelli nati dal primo matrimonio del padre con il quale è legata ma essendo la più piccola è comunque rimasta distaccata poi abitavano in paesi diversi questo papà che per lei è tutto da questo libro si capisce veramente quanto amore lei avesse per suo padre un medico che ad un certo punto poi scopre di avere un cancro e muore in poco tempo e diciamo la prima parte è un po' questa presentazione del suo papà attraverso le ricette attraverso le ricette che il papà ha insegnato a lei e attraverso poi le ricette che hanno provato insieme e che lei poi ha custodito nel suo cuore la seconda parte possiamo definirla la parte della vita in cui questa ragazza riceve un commento sul suo blog riceve un commento sul suo blog e il commento le viene fatto da quello che poi diventerà il suo marito cioè il suo fidanzato prima e poi diventerà suo marito si incontrano perché abitano in due stati diversi si incontrano, si conoscono e si innamorano e proprio grazie ad un commento ad una sua ricetta questo amore sboccia e finisce poi bene finisce con il matrimonio e nella seconda parte ci sono poi le ricette della lontananza di quando si incontrano di quando lei va adesso io non so se lei sono entrambi americani vediamo se riesco a trovare qualche cosa ve la leggo la vita di Molly Wittenberg come quella di molti di noi è indissolubilmente legata a un luogo particolare un luogo che tutti noi viviamo intensamente spesso senza rendercene conto il centro affettivo della casa palcoscenico popolato dai nostri affetti dalle persone care che abbiamo conosciuto è spesso perduto un luogo dove gioia e dolore si dividono il posto più importante la cucina Molly è cresciuta lì giocando con pentole e cucchiai sotto l'occhio vigile della madre e appena raggiunto l'altezza necessaria a usare un piano di lavoro non lo ha più abbandonato cucinare è stato ed è tuttora la sua grande passione un'azione rassicurante a cui non ha più rinunciato Molly non è una chef per lei cucinare è un atto intimo affettivo una barriera che la protegge dall'insidio del mondo un modo per vivere e affrontare gioie e dolori dell'esistenza che è un po' quello che succede a tanti di noi ogni avvenimento della vita dal più drammatico come la morte dell'amatissimo padre al più felice e indissolubilmente legato nella sua memoria a un piatto una pietanza per corpo e spirito che nel racconto di Molly diventa una pietra migliare della memoria le ricette accompagnano la lettura intrecciandosi al racconto autobiografico e costituendosi pagina dopo pagina come un'autobiografia alternativa e inconsueta fatta di creme al cioccolato e dolci deliziosi salse, sughi e insalate un modo diverso di raccontarsi dalla cucina comincia quindi il viaggio dell'autrice un viaggio che la porterà dall'Oklahoma a Shuttle ecco, lei è dell'Oklahoma il suo fidanzato è a Shuttle e si incontreranno attraverso Parigi molto lontano ma non troppo da un caldo e accogliente focolare ecco, un libro davvero molto molto bello dove penso che ognuno di noi che ha delle ricette del cuore che ha delle ricette legate a delle situazioni a delle persone che non sono più con noi che possono essere i genitori che possono essere dei fratelli degli zii, degli amici oppure delle situazioni particolari che abbiamo vissuto per esempio lei racconta in qualche capitolo nelle giornate poco prima che morisse il papà e nelle giornate dopo che è avvenuta la sua morte di come le persone che gli erano vicino ma anche dei vicini che magari così aveva incontrato soltanto poche volte si avvicinano alla loro porta per portare in quel momento di dolore in cui uno magari non ha neanche voglia di prepararsi una pastina io dico così per portare dei piatti per così rifocillare il corpo e scaldare l'anima e il cuore un libro davvero molto molto bello che mi è piaciuto tantissimo la utrice in Sonata Controllare non ha più un blog aperto mi è parso di capire che ci si possa iscrivere non so se a pagamento per poter ricevere poi le sue ricette ecco è un libro che è uscito qualche anno fa io ce l'ho da qualche anno nella mia biblioteca 2014 penso di averlo comprato dopo il 2014 ma sarà almeno un 5 o 6 anni che io l'ho nella biblioteca e questo è stato il momento giusto per andare a riprescarlo l'ultimo libro che vi racconto è un libro stupendo un libro che dona gioia che dona felicità che dona allegria e pagina dopo pagina faremo questo viaggio così strano così inconsueto con questo personaggio che vi ritroverete a sorridere e a ridere per quello che gli succede e per come lo vive allora Camilla Andrea Camilla Andrea è un autore che non esiste e viene proprio descritto qua come dietro a questo pseudonimo si nasconda una grande firma della letteratura francese di cui tutti ignorano l'identità lettori e editori compresi una cosa però è certa qualunque sia il suo vero nome il suo romanzo è più irresistibile di croissant appena uscito dal forno e anche qui ci sono i croissant ma non avremo nessuna ricetta o forse ce n'è dentro una Camilla Andrea il buongiorno si vede dal croissant la felicità inizia dalla colazione di cosa parla questo libro ve lo leggo perché io poi andrei per altre per altre strade Pierre è un uomo di successo la sua azienda Happy Croissant produce dolci venduti in tutto il mondo e aiuta le persone a cominciare la giornata con un sorriso Pierre invece non sorride da molto non sa più cosa sia la felicità tutto intorno gli appare grigio persino il poco tempo che passa con la sua famiglia fino al giorno in cui si ferma per caso a un chiosco ed è il giorno più fortunato della sua vita ve lo dico io e proprio lì succede qualcosa che cambia il suo futuro l'anziano venditore gli fa una proposta assaggiare una colazione capace di migliorare la vita Pierre se ne intende di brioche e non crede alle parole dell'uomo eppure ogni giorno ritorna al negozio e ascolta i consigli dell'ambulante per esempio che nella vita c'è un'unica occasione e non va sprecata lamentandosi ok il fallimento non è un errore ma la strada per diventare chi si vuole essere o ancora che non bisogna dare per scontato che abbiamo accanto perché è in loro che troviamo la forza di affrontare gli ostacoli mattina dopo mattina Pierre prova a mettere in pratica questi insegnamenti e sente qualcosa risvegliarsi dentro di sé il sorriso che per lui era solo la forma del croissant prodotti della sua azienda diventa parte delle sue giornate perché dare una svolta alla propria esistenza non solo è possibile ma è un dovere il sole il suono dell'acqua che scorre l'odore della pioggia il frusciare del vento l'amore l'amicizia sono un regalo che necessita di cure rendere grazie per le piccole cose è il primo passo per godersi appieno le gioie più immense è un romanzo stupendo veramente stupendo che alla fine farete fatica a finire perché non volete finirlo perché quel venditore ambulante messicano o non riusciamo a capire bene di che nazionalità sia con tanti denti mancanti sporco che serve il caffè più buono del mondo a Pierre in un bicchiere reciclato giorno dopo giorno è una persona che ha dei valori e che insegna a Pierre i valori veri della vita il valore della gioia il valore di ringraziare il valore di donare il valore di andare a cercare la felicità anche se la felicità è andare in Perù non vi svelerò di più Pierre è una persona famosa è uno dei migliori pasticceri al mondo qui viene descritto così e ha degli amici importanti come Michael Jackson e Madonna che vanno a trovarlo in negozio per mangiare un croissant vegano e senza grassi che faccia bene super proteico questa è Madonna e Madonna le dà dei consigli gli dà dei consigli è un libro che a volte sembra quasi surreale perché le avventure che questa persona miliardaria riesce a vivere sono veramente surreali ma è un libro dove Pierre nonostante sia una persona triste dove nonostante all'inizio abbia perso l'attenzione per la moglie e per il figlio che è piccolino frequenta l'asilo si capisce proprio dalle prime parole che lui dice che racconta in questa pagina che Pierre è una persona buona e non solo una persona buona è una persona che nonostante la ricchezza e nonostante l'essere famosi non ha dimenticato le sue umili origini e fa tesoro dei consigli di chi e di questo ambulante non lo prende in giro sia all'inizio magari gli sembra così un po' particolare un po' pazzo un po' strano ma ritorna ritorna ogni mattina e ogni mattina per lui è una lezione di vita questo è un libro che va a letto perché vi regala davvero delle piccole chicche quotidiane dove ci fa capire che la gioia c'è in ogni piccola azione che noi compiamo e soprattutto è un dovere per tutti cercare di essere felice cercare di raggiungere quella felicità che non è la ricchezza che non è l'avere una grossa azienda ma la felicità va trovata proprio nelle piccole cose e la felicità veramente si trova proprio in una colazione in un sorriso che ci regala il croissant bene spero di avervi dato così qualche spunto di lettura mi sono proprio accorta adesso che parlavano tutti comunque di ricette di cibo vuol dire che comunque il cibo ha un potere davvero grandissimo il potere di far felice chi lo prepara se viene preparato con sentimento se viene preparato con il pensiero che questo cibo verrà condiviso con delle persone a cui noi teniamo o verrà donato a qualcuno che ne ha bisogno o verrà cucinato con tutto l'amore possibile perché il cibo ci fa star bene sì è vero ci nutre ma ci fa star bene soprattutto nel cuore e nell'anima perché ci regala ci regala dei ricordi ci regala delle sensazioni ci regala dei profumi e tutto questo è bellissimo quindi davvero anche quando cucinate soltanto una pasta asciutta con il ragù ma lo fate per vostro figlio che torna magari dopo 15 giorni 3 settimane che non vedete quella pasta asciutta al ragù ha un sapore diverso quando tuo figlio chiama la nonna e gli dice nonna la prossima settimana scendo per piacere mi fai mondeghini perché solo come tu li fai sono buonissimi vuol dire che in quel mondeghino in quella polpetta o in quel piatto di pizzocchi o in quel ragù c'è dentro tutto l'amore di una nonna è quello l'ingrediente segreto è quello che fa sembrare più buono una polpetta un ragù un piatto di pasta ed è quello che è secondo me è sorprendente in un piatto che noi prepariamo io dopo questa così pillola filosofica vi abbraccio vi auguro un buon fine settimana e ci rivediamo presto con un nuovo video grazie e ciao